Il problema della sanità si sta avviluppando attorno a un'altra questione che è quella dei trasporti dalla duplice valenza, trasportati e trasportatori. Sì esatto, è notizia proprio di ieri che c'è stato un taglio di 1.400.000 euro sui trasporti non sanitari che riguarda la dialisi, quindi i dializzati, i pazienti dismessi e le visite. Questo significa 1.400.000 euro in meno e oltre 30 posti di lavoro persi per la Croce Azzurra di Fano e anche altri tanti per la UAN di Pesaro. La nuova vincitrice non assorbirà questi dipendenti, quindi ci troveremo 50 anni senza lavoro e il Comune naturalmente siccome è un bando regionale se ne lava le mani. Questo abbiamo visto ieri in Consiglio Comunale a seguito della nostra interrogazione. Altro problema è essendoci 1.400.000 euro il taglio avverrà naturalmente sui servizi, quindi io chiedo a tutti i pazienti e a tutti i cittadini che usufruiranno di questo servizio di vigilare e farsi portavoce tramite noi, consiglieri comunali, di tutte le carenze che si verificheranno da ora in avanti. Grazie. 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 Grazie.